Più territorio e meno ospedale. Questa la novità rilevante contenuta nella delibera di aggiornamento dell'atto aziendale adottata dall'ASL Lanciano Vastochieti. Il documento traccia un orientamento nuovo nelle attività assistenziali perché sposta fuori dalle corsie alcune attività tradizionalmente ospedaliere. Le scelte dell'azienda sanitaria privilegiano l'area territoriale in linea con la nuova normativa. La cura superata la fase acuta della malattia non trova più nella degenza la risposta più efficace e appropriata. Assumono quindi una vocazione territoriale le unità operative complesse di oculista, dialisi, edocrinologia, geriatria, servizio trasfusionale, genetica e radiognostica le cui attività saranno sensibilmente più sviluppate nell'ambito dei distretti. Questa nuova caratterizzazione data ad alcune strutture ha sottolineato il direttore generale dell'ASL Francesco Zavattaro rappresenta un'occasione importante per sviluppare una formula assistenziale diversa che accorcia le distanze con i servizi e li pone a portata di mano nel luogo più prossimo al domicilio del paziente. Anche nell'area ospedaliera ci saranno novità e il caso del nuovo approccio al politrauma che sarà sviluppato all'ospedale di Chieti grazie al coinvolgimento degli specialisti in chirurgia maxillo-facciale e neurochirurgia del Renzetti di Lanciano. L'atto aziendale fissa a 105 il numero di unità operative complesse di cui 64 sanitarie ospedaliere e 41 non ospedaliere. Si attestano inoltre a 93 le unità operative semplici e a 45 quelle semplici a valenza dipartimentale. Grazie. Chiamata